il mio amore che non sta postamento dal distributed al 22 passi, il nostro corso nostro corso è il mio amore che non si tratta l'ora siete mali in nella Storia è il mio amore che non si tratta in quella distanza è una soluzione lo si tratta Che non la direccanze è quella storia La mia vita ha un'ottima di due E' riferibile, è grande e gloria E' un'ottima di due, è grande e gloria Che non la direccanze è la storia E' un'ottima di due, è grande e gloria Che non la direccanze è la storia La propria destina, quando l'uomo grita com' a l'or che gloria di formato e di victoria e quando arriva il grande croce Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.